eccoci qua ragazzi testa a testa allora innanzitutto salve a tutti io sono robirox e benvenuti in questo nuovo video nuovo video che è stato realizzato su richiesta degli iscritti a questo canale quindi prima di cominciare vi invito come solito di iscrivervi al mio canale lasciando la e cliccare sulla campanellina ma soprattutto lasciate qualche commento oltre a dubbi a domande se avete anche delle proposte su futuri eventuali argomenti che vorreste venissero trattati non dovete fare altro che scriverlo io cercherò di accontentare un po tutti nel limite del possibile altra piccola premessa voglio ringraziare s music store per avermi dato la possibilità di giocare con queste due bimbe qua quindi di testarle di recensirle fare appunto questi confronti per voi quindi vi consiglio di andare nel loro sito smusic.it e dargli un'occhiata o se no perché no ancora meglio di andare nel loro negozio fisicamente perché ne vale veramente la pena allora oggi vedremo insieme questo audio test questa audio comparazione tra la more red track e la more black track molto simili ma anche molto diverse allora perché non l'ho fatto questo audio test nelle mie due recensioni precedenti infatti se non l'avete visto vi invito ad andare a vedere la recensione della red e la recensione della black che ho già fatto e pubblicato tempo fa perché non ho fatto degli audio test perché semplicemente quando si tratta di recensire dei prodotti in questo caso pedali o pedaliere che debbono essere utilizzate con un amplificatore fare un audio test risulta pressoché inutile perché capite anche voi che la qualità sonora la timbrica viene notevolmente influenzata non solo dal tipo di chitarra di pick up di corde dalla mano di ognuno di noi ma anche dall'amplificatore che utilizziamo dal microfono che utilizziamo e dalla posizione in cui lo mettiamo di fronte al cabinet quindi se devo andare a fare un audio test di un sistema full digital come può essere ampero come può essere elix come può essere edrush ha un senso perché dal momento che amp e cab sono simulati tutti quanti all'interno della macchina il suono quello è ma dal momento che devo andare a fare una comparazione audio su dei prodotti che possono essere delle pedaliere come queste quindi un insieme integrato di effetti ma che comunque per funzionare hanno bisogno di essere collegati a un amplificatore capite anche voi che le variabili sono immense e il risultato è discutibilissimo ho voluto comunque accontentare i miei follower facendo questo video quindi alla fine sentiremo le differenze sonore tra la red e tra la black tenete presente che io utilizzo una music man luke 2 collegata al mio amplificatore black star ht 40 microfonato con sm 57 ora cominciamo subito e andiamo come prima cosa a vedere la red track appena dopo la sigla a vedere la red track appena dopo la sigla Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.